non ti saluta quando ti saluta ti risponde malissimo con tono saccente e frasi che sembrano fatte apposta per ferirti e tu non sai se sia meglio contare fino a dieci scappare lontanissimo lasciar perdere o chiederti ma dov'è che ho sbagliato vediamo invece di capire quali sono le riflessioni le domande più utili che ti possono aiutare a riagganciarti con il tuo bambino o la tua bambina e ritrovare quella complicità senza partire per forza in crisi di urla ciao e benvenuto al piccoli passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante rispettosa e positiva nel buon umore sono clio mamma di due bambini passato in azienda oggi consulente in educazione positiva coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori tempo per crescere e oggi invito a sperimentare nuovi punti di vista su litigi crisi rispostacce comportamenti un po arroganti da parte dei tuoi bambini ragazzi un respiro un sorriso e cominciamo ben ritrovato ben ritrovata o partiamo da questo problema sempre d'attualità no cioè tuo figlio tua figlia ti risponde male ora questo ti risponde male chiaramente può essere soggetto a diverse interpretazioni no e anche può manifestarsi in modi diversi in base all'età dei tuoi bambini ma ne ho visti esempi e ho sentito come dire la mentele da qui di questo tipo da parte dei genitori con figli di tutte le età perché non appena il bambino la bambina iniziano a parlare quantomeno a esprimersi quindi molto presto ci sono quei momenti in cui e beh la loro volontà si oppone alla nostra gli adulti e non sempre lì magari entrano in gioco anche le nostre aspettative no non sempre il loro modo di esprimere il disaccordo il disappunto le la fatica la rabbia le emozioni di quel momento è come noi ce l'aspettiamo ripeto molto probabilmente un problema di aspettative in primis perché quando ci pensiamo veramente come può venirci in mente che i nostri bambini in preda magari alla rabbia o a qualunque tipo di emozione o anche solo appunto al disaccordo e al dirsi no non sono d'accordo con te non voglio fare quello che mi stai chiedendo tu mamma papà ce lo dicono ce lo dicano alla prima dicendo sai cosa c'è mamma papà mi sento un po infastidito in questo momento quindi ti vorrei chiedere questo questo quest'altro per favore lasciami un attimo tranquillo cinque minuti che appena mi calmo torniamo a parlare sembra un po utopistico quantomeno che riescano a farlo la maggior parte delle volte senza il nostro esempio ma tant'è che le prime difficoltà ricordo anch'io da mamma erano proprio quando quando la mia bambina mi ricordo ancora quando la mia bambina era piccolina non parlava avrà avuto poco più di un anno eppure si rifiutava di metterle i vestitini che io le sceglievo la mattina andavamo insieme ce l'avevo in braccio aprivamo l'armadio eravamo ancora nella nella casa nell'appartamento di prima e me lo ricordo così ho avuto questo flash mentre chiacchieravo al microfono ecco prendiamo le i vestiti apriamo l'armadio le indico guarda che bello questo vestitino tutto colorato e lei che comincia a scalciare agitarsi perché non se lo vuole mettere no ed è lascia così quella potrebbe già essere interpretata come non dico una rispostazza ma comunque un impuntarsi su cose che sembrano agli occhi di noi genitori come una nostra un nostro legittimo no non è ancora 18 anni o 16 come possibile che già vuoi vestirti come dici tu e non posso decidere io che vestitino metterti che sai a poco poco più di un anno eppure eppure così e questo poi da lì in poi si declina in tantissimi modi e quindi cosa si intende con mi risponde male si intende probabilmente e prova a pensare anche tu qual è la tua interpretazione se tu dovessi dire mio figlio mi risponde male o mia figlia mi risponde male a cosa pensi e lì ci possiamo mettere tante cose quindi magari alza il tono della voce oppure non usa le modalità tipo per favore grazie magari ci aggiunge qualche aggettivo un po' dispregiativo che che magari sembra detto per ferire come brutto brutta cattivo cattiva un no detto in modo un po' forte alzando la voce con toni bruschi se magari non parlano può essere appunto andandosene scuotendo battendo i piedi agitandosi con le mani prova a vedere anche tu se riesci ad andare nel dettaglio e a vedere che cosa per te è una risposta una rispostaccia una risposta che ti fa venire questo senso che i tuoi figli ti stiano mancando di rispetto siano magari stiano mostrando ingratitudine o maleducazione interessante andare a vedere questi dettagli e cosa ci mettiamo dietro perché di fatto è un po' un costrutto sociale no e e quindi a seconda del contesto sociale in cui ti trovi possiamo trovare risposte diverse a questo ora quello che trovo interessante è la difficoltà che noi attraversiamo come genitori nel vivere e mi ci metto dentro perché succede anche a me e meno male che ho gli strumenti imparati con la disciplina positiva l'educazione positiva il coaching negli ultimi anni per rendermi conto di questi meccanismi e mettermi in pausa prima di mangiarmi viva mia figlia ma adesso volevo appunto accompagnarti a vedere insieme quali possono essere questi strumenti in modo che questi momenti che poi in adolescenza diventano possono diventare proprio anche parole che sembrano proprio scelte no per andare a colpire nel segno e le porte chiuse le porte sbattute i tentativi e e la conseguente preoccupazione che ci può essere dietro perché magari il figlio la figlia per attirare l'attenzione fanno delle dei gesti che possono avere delle ripercussioni sono delle conseguenze negative che possono essere dei comportamenti pericolosi mi è capitato di sentire appunto di bambini che magari vanno scappano in strada uscendo di casa quando sono ancora piccoli piccoli cioè non in situazioni diciamo in contesti pericolosi rispetto alla loro età e alla situazione emotiva in cui si trovavano insomma ci possono essere no poi che sull'onda del momento sull'impulsività in cui si trovano i bambini i ragazzi in quel momento che magari dal da quello che è all'inizio una sorta di quasi provocazione ai nostri occhi possano scaturire litigi più profondi e quindi magari gesti che potenzialmente possono avere delle conseguenze nel momento in cui dall'adulto non ha gli strumenti per capire cosa c'è dietro questo comportamento da parte dei bambini e dei ragazzi e poter intervenire in modo da contenerli in modo da guidarli in modo da risolvere positivamente il conflitto quindi partiamo da qua partiamo dall'interpretazione dell'adulto di fronte al comportamento dei bambini dei ragazzi perché da lì che nasce no un po tutto perché se l'adulto prendesse la risposta brusca insolente tanto non la come dire non la interpreterebbe neanche come insolente no se non non fosse un problema per l'adulto l'adulto lo prenderebbe come ok mio bambino mi ha appena risposto non mi ha uscito da scuola senza salutarmi non mi sta guardando in faccia e ora mi ha mollato in mano lo zaino per poi andarsene a parlare con i suoi amici senza degnarmi di per favore tienimi grazie ciao come stai ok partiamo dal descrivere una scena no quindi questa è la situazione nei fatti che poi l'adulto interpreti questi fatti come una mancanza di rispetto come un comportamento inadeguato un comportamento insolente ingrato maleducato bla 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 è l'interpretazione che può fare l'adulto nel momento in cui l'adulto resta osserva osservare questo comportamento in maniera neutrale cioè senza che gli si scaturiscano emozioni o sentimenti vari in quel momento non succede niente di che cioè nel senso che può prendere questo comportamento come il segnale di un qualche cosa nel mondo del bambino del ragazzo e poi eventualmente andare a questionare il bambino al ragazzo se c'è una un gap tra la situazione e il comportamento desiderato per esempio così resta concreto e non campato per aria nella società in cui viviamo possiamo dirci che è un segno di rispetto di buona educazione salutare quando ci si incontra per la prima volta dopo tanto dopo diverse ore e chiedere per favore quando vogliamo per esempio chiedere un favore a un altro come nell'esempio che ho fatto se mio figlio mia figlia escono da scuola e ci incontriamo all'ingresso della scuola o all'uscita dalla scuola la il codice sociale della nostra cultura dice che è una buona cosa salutarsi quindi dire ciao mamma o ciao papà e se voglio dare il mio zaino alla mamma o al papà perché così posso mettermi la giacca o andare a salutare i miei compagni andare a giocare al parco chiedo visto che il bambino ha un'età in cui ha le capacità cognitive per chiedere questa cosa e per esprimere questa cosa l'aspettativa sociale che abbiamo è quella che dica mamma o papà voglio andare vorrei andare due minuti a giocare con i miei compagni ti dispiace punto uno e due per favore mi tieni lo zaino così non mi pesa sulle spalle questa è l'aspettativa ed è quello che vorremmo nella situazione per esempio di cui stiamo parlando insegnare al bambino e al ragazzo a fare con tutti gli step del caso nel momento in cui il bambino e il ragazzo sa fare questo quindi ha sviluppato le competenze per farlo ha mostrato in passato di saper fare tutto questo anche in autonomia no perché ci sono come dire dei mattoncini di lego che abbiamo costruito man mano negli anni per insegnare e per dare l'esempio no e soprattutto tanto si fa con l'esempio quando sto pensando a bambini e ragazzini che magari sono già in terza quarta quinta elementare o all'inizio delle medie ok quindi hanno avuto diversi anni per imparare questi skill ma anche per osservare le interazioni tra gli adulti o tra gli adulti e i loro bambini e quindi assorbire per per modello per esempio quali sono questi codici sociali quelle regole non scritte di comportamento ok quindi noi possiamo da adulti aver osservato tutto questo e nel momento in cui vediamo il nostro bambino bambina o ragazzo ragazza che sia comportarsi in un modo diverso rispetto a questo nel momento in cui siamo non diamo nessun tipo di interpretazione particolare che riguardi noi quindi non prendiamo sul personale il comportamento possiamo dirci ok il mio bambino sta mostrando un comportamento diverso rispetto al comportamento atteso cosa è successo come posso fare per fargli notare e per capire cosa c'è sotto e riaccompagnarlo a riprendere in mano il comportamento atteso ok la stessa cosa potremmo pensarla e vederla con bambini più piccoli dove quindi resta interessante no dal punto di vista dell'osservatore chiederci ok qual è il comportamento che mi posso aspettare da questo bambino da questa bambina data la sua età dato la sua unicità di bambino e bambina data le sue esperienze date le cose che sa di aver mostrato la sua capacità di risposta di ragionamento metto insieme tutti gli elementi e vedo che non lo so se quando vado a prenderlo in asilo nido anziché venirmi incontro correndo tra le braccia come fa e sorridendo come fa tutti i giorni oggi si gira dall'altra parte e se ne va posso immaginarmi che ci sia qualcosa sotto e lì andare a cercare di capire che cos'è questa cosa qual è il problema però che molto spesso passata una certa età e una certa fase molti adulti mettono un'interpretazione un'etichetta negativa a questo tipo di comportamento non tanto nel comportamento in sé cioè il comportamento l'abbiamo visto non è il comportamento atteso e quindi sappiamo che c'è bisogno di un qualche tipo di intervento per accompagnare i nostri bambini e ragazzi a riprendere diciamo la rotta del comportamento che vogliamo soprattutto a trasmettere loro alla base quei valori di fondo che stanno dietro il comportamento no quindi se io prendo l'esempio del salutarci all'uscita da scuola e chiedere alla mamma o al papà per favore mi tieni lo zaino per favore posso andare a giocare con i miei compagni qual è il valore che ci sta dietro ci può essere quello del rispetto per per le connessioni e i legami sociali che possiamo avere con le persone care intorno a noi il prendersi cura anche di questi piccoli dettagli che però nella nostra società no sono importanti per le persone che ci stanno intorno a cui vogliamo bene e anche poi magari ci può essere quello di un pochino più nascosto di poter esprimere un eventuale disappunto fatica emozione negativa in un modo più utile in un modo rispettoso per entrambi anziché nasconderlo dietro la rispostaccia ok queste sono tutte competenze che saranno utili ai nostri bambini e ragazzi una volta diventati adulti ed è sempre utile riportare al presente l'obiettivo futuro no perché sennò diventa un insegnamento fine a se stesso perché dobbiamo insistere che il nostro bambino ragazzo ci chieda per favore o ci saluti non è tanto per farci contenti quanto perché vogliamo trasmettere determinate cose quando rimettiamo nel contesto no questa questa questo insegnamento che vogliamo dare l'obiettivo futuro cambia anche il modo di intervento nei loro confronti e quanto prendiamo ed ecco arriviamo al punto sul personale eventuali comportamenti che si discostano da quello che vogliamo insegnare lì è un po la roba che frega tanti perché perché appunto per molti adulti il vedere il bambino ragazzo che ha un comportamento diverso come può essere in non salutare a partire da un certo punto che può essere diverso per ognuno di voi anzi ti invito a pensare a partire da che età ti sembra una mancanza di rispetto se il tuo bambino non ti saluta all'uscita da scuola a sei mesi se lo lasci in asilo nido dalla tata o dai nonni in che modo ti riconoscerà non probabilmente non non la prendi sul personale forse sì non so chiedo o a partire da un anno due anni tre anni tre anni e mezzo quattro anni cinque anni sei a partire da che età se ti succede ti può sembrare una mancanza di rispetto che il tuo bambino o la tua bambina non ti salutino all'uscita da scuola prova a rifletterci che è interessante e dopodiché è interessante andare a capire come mai quindi spesso e volentieri per molti adulti questo questo comportamento qui è indice di qualcosa di più profondo va a toccare una corda personale va a toccare un qualcosa di a livello dell'ingratitudine a livello di ma come come si permette di parlarmi in questo di trattarmi in questo modo a livello di ma evidentemente forse sto sbagliando io qualcosa nel modo in cui sto educando mio figlio mia figlia e attenzione questo è un punto importante non intendo dire che se osserviamo un comportamento dei nostri figli che va magari un po corretto reindirizzato il punto non è di dire ma sì chi se ne importa prima o poi imparerà ok noi possiamo tranquillamente vedere soprattutto nel caso in cui ci siano dei comportamenti ripetuti quel comportamento come il segnale di un qualche cosa che va sistemato e ci possono essere tante cause nascoste e quindi è interessante effettivamente prendere quell'osservazione per poter intervenire non dire ma si fa niente prima o poi no e restare in osservazione il problema nasce quando nel nell'osservare un eventuale bisogno di modifica di reindirizzamento di intervento da parte nostra ne facciamo un dramma ne facciamo una roba oddio allora ho sbagliato ma oddio allora forse mio figlio mi vuole bene non mi vuole bene o sono io che è lui che ma come è possibile ma qui ma chissà cosa pensano gli altri cioè il dare una un'emotività e un'importanza al comportamento e al bisogno di effettuare eventualmente delle modifiche che causano ansia che causano agitazione che tolgono energie e risorse nel restare tranquilli e pronti a provare riprovare e cambiare intervento ok lì che diventa un bastone tra le ruote diciamo perché questo tipo di atteggiamento toglie proprio presenza no e fa diventare un problema una cosa che invece è normale ed è lì per me la chiave cioè il non vedere come normalità il fatto che nella relazione genitori figli ci sono sempre queste fasi c'è sempre bisogno di queste fasi di aggiustamento non è possibile immaginare che sappiamo sempre dire la cosa giusta al momento giusto che sappiamo sempre correggere intervenire capire fare brigare dire restare zen sempre perfettamente al top rispetto a quello che vogliamo insegnare e che i bambini lo colgano alla prima è normale avere soprattutto perché poi i bambini nel crescere nel crescendo hanno anche loro cambiano fanno anche loro le loro esperienze con attraverso la scuola con i compagni che interpretano a loro volta e che quindi vanno poi a influenzare il loro comportamento e quindi prima di poter adattare la nostra risposta di adulti al comportamento dei bambini a quello che loro stanno vivendo c'è bisogno direi quasi sempre di una fase in cui o mamma c'è una disconnessione è un po' come se immaginati se vuoi sintonizzarti su un canale radio no e sei in viaggio in macchina a un certo punto il canale che prima prendeva benissimo incomincia a gracchiare gracchia 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 finché non lo senti più ok e hai bisogno di risintonizzarti con la radio per trovare il nuovo canale che capta la rete radio che tu volevi sentire è un po' la stessa cosa man mano che i bambini crescono si evolvono e tu hai bisogno di una fase in cui cerchi disperatamente girando la rotella finché finalmente non riesci a trovare come sintonizzarti sulla stessa rete le stesse frequenze dei tuoi figli quindi è importante partire da questo per non andare in paranoia nel momento stesso in cui il bambino ha un comportamento x così come è importante non far finta di niente no ma avere questa questo sguardo e questa presenza che dice bene ok è faticoso che fatica speravo avevamo appena trovato il canale con cui sentire la rete andava tutto bene adesso bisogna ricominciare da capo a rigirare sta manovella e va bene benissimo è così una cosa fondamentale nel momento in cui capisci e davvero cogli questo a quel punto capiteranno anche lì le volte in cui nonostante tutto il comportamento di tuo figlio ti attizza qualcosa interiormente succede anche a me cioè appunto nell'esempio che ho raccontato all'inizio che non è un esempio caso è un esempio che ho vissuto la prima risposta istintiva è di e anche qui è sempre personale no la reazione questa reazione personale che tu hai di fronte a un determinato comportamento dei tuoi bambini è preziosissima perché fa da specchio alla reazione successiva dei tuoi bambini ed è una indicazione preziosissima per poter capire cosa ci sta dietro e trovare una chiave di intervento secondo la disciplina positiva che si appoggia sulla sul lavoro e sulle ricerche le teorie di adolf hadler ci sono come dire diversi obiettivi nascosti che ognuno di noi può perseguire nel tentativo di sentire questo senso di appartenenza agli altri la società la famiglia la classe eccetera e che quindi corrispondono a danno quattro macro categorie per aiutare poi il genitore a trovare lo strumento più adatto per rispondere e la prima chiave per capire a quale di queste quattro categorie può corrispondere il comportamento del bambino e l'obiettivo nascosto è proprio a partire dalla reazione emotiva dell'adulto nel momento in cui l'adulto si sente sfidato a specchio è probabile che il bambino stia perseguendo come dire un obiettivo nascosto di ricercare questo questo senso di appartenenza tramite prevalere sull'altro se il il genitore si sente infastidito a specchio è probabile che il bambino stia cercando di trovare questo senso di appartenenza e importanza tramite una ricerca di attenzione insistente e via così e quindi è interessante davvero iniziare a prestare attenzione a quali sono le tue reazioni per capire meglio cosa c'è dietro il comportamento del tuo bambino soprattutto se sono comportamenti magari che si ripetono e che quindi stanno creando un nuovo schema perché pensaci bene nel momento in cui immaginiamo il bambino stia perseguendo in modo inconsapevole naturalmente un obiettivo di sentirsi importante perché cioè tramite la ricerca di un'attenzione insistente tipicamente il genitore si sente infastidito nel sentire infastidito nell'esempio che ho appena fatto che tipo di risposta avrà avrà una risposta da sbuffa o manda via al figlio o gli risponde ma che modo è di rispondere in questo modo che tipicamente non andrà a colmare il bisogno di appartenenza e importanza del bambino ma creerà quindi un circolo vizioso dove il comportamento del bambino andrà a maggior ragione a intensificarsi la risposta dell'adulto si intensificherà ed ecco che arriviamo poi ai vari circoli viziosi dell'inascolto che portano poi ai litigi anche in malomodo ok nel momento invece in cui l'adulto riesce a fermarsi un attimo a capire ok come sto reagendo cosa cosa mi comporta cosa mi causa questo comporta perché mi sto sentendo così cosa ci sta sotto quella fase di pausa di respiro di autoanalisi diciamo così è il primo step fondamentale per poter poi trovare una risposta diversa perché nel momento in cui capisco che il mio bambino bambina l'esempio che ho appena fatto può essere ok prendo il bambino e la bambina nel mio contesto so che sta entrando in preadolescenza so che sta attraversando tutta una serie di cambiamenti si sta preparando a lasciare la scuola elementare per entrare nella scuola media e quindi il mondo delle sue amiche e amici assume un ruolo tutto diverso rispetto a prima e che probabilmente si sta adeguando in questo posso quindi considerare che questo nuovo mondo fa sì che si volga più verso i coetanei che non verso a noi questo a sua volta magari fa sì che noi adulti noi genitori siamo più volti verso il fratello più piccolo che invece è ancora più come dire attaccato alla famiglia che non agli amici e questo magari va ad accendere o riaccendere delle gelosie o un sentimento di non appartenenza al nucleo familiare con una risposta da parte del bambino o della bambina in questo caso di ricerca inconsapevole di attenzione oppure di vendicarsi per questa sensazione un po' di ferita che può avere nel vedere più attenzioni date al fratello e quindi se ci aggiungiamo che uscendo da scuola ha vissuto chissà che cosa ha vissuto durante la giornata ecco che tutto questo può contribuire a spiegare il comportamento di non ti saluto all'uscita da scuola e che se io non lo colgo e non lo capisco in questa sua interezza non riesco a dare una risposta adeguata che se rispondo bruscamente rischio di far partire quel circolo vizioso se invece io colgo tutto questo posso dirmi ok facciamo un attimo un passo indietro c'è qualcosa come posso fare per intervenire e per poter dare a mia figlia o mio figlio dell'attenzione positiva o un senso di responsabilità in più perché si senta partecipe nelle cose che riguardano la casa un dialogo a cuore aperto in cui vediamo insieme queste fatiche queste dinamiche in cui facciamo uno scambio onesto su come aiutarci a vicenda e via così e vedi come è diverso tutto questo rispetto invece a ribattere stizzita o a dirle ma come ti permetti di rispondermi in questo modo eccetera eccetera e attenzione se ti riconosci in questo tipo di risposte non c'è bisogno di partire adesso con ecco vedi non ho sbagliato non avrei dovuto non va bene lo stesso l'idea è possiamo sempre ricucire poi il rapporto con i nostri bambini e ragazzi facendo un passo indietro andando a ricercare la connessione con loro chiedendo scusa e trovando una soluzione diversa ci sono tanti strumenti che vediamo insieme in negli incontri di tempo per crescere proprio perché non si tratta tanto di cose difficili di per sé quanto di poter acquisire questo sguardo che ha una prospettiva un po più generale no sulle cose che esce da quella ferita personale o dal prendere sul personale le cose e tante tanti strumenti e tante abitudini che permettono di coltivare quell'attenzione giorno dopo giorno e piano piano per capire meglio effettivamente qual è la mia reazione in quel momento perché mi reagisco così cos'è che sto pensando e qual è il mondo dell'esperienza del mio bambino della mia bambina in quel momento e come faccio a restituire un senso di incoraggiamento partendo da questa osservazione del mio bambino della mia bambina tutto questo detto così sembra semplice ma sono tutte come dire sono tutti strumenti a cui non siamo per forza abituati nella quotidianità e richiedono un po di tempo per essere sviluppati un po come un muscolo ok quindi se poi ti interessa avere aiuto su come mettere insieme a questi punti non esitare a contattarmi a quello che facciamo negli incontri di tempo per crescere sia negli incontri nei percorsi individuali fammi sapere se ti ritrovi in queste dinamiche se ti è capitato di trovarti in situazioni del genere e come fai per darti il supporto che ti serve per poter uscire da questi eventuali circoli viziosi che si rischiano di creare involontariamente e invece ripartire su un circolo virtuoso di incoraggiamento reciproco io ti do appuntamento la settimana prossima e intanto ti do un grande abbraccio grazie